Che avete da guardare? Siete solo una manica di coglioni E sapete perché? Perché non avete il fegato per stare dove vorreste stare Voi avete bisogno di gente come me Vi serve la gente come me Così potete puntare quel dito del cazzo e dire Quello è un uomo cattivo Invece Voi Vi sentite buoni Voi non siete buoni Voi sapete solo dire le bugie Invece Io dico la verità anche quando dico le bugie Coraggio Augurate la buona dotta al cattivo, coraggio Coraggio Il pezzo che ho portato oggi è tratto dal film Scarface Interpretato da Al Pacino Ed è un pezzo che io amo molto perché mi dà molta grinta Ciao, mi chiamo Mattia Morganti Sono di Terracina, però sono nato a Roma Ho 17 anni Amo quello che faccio Faccio una scuola di recitazione a Roma Ho fatto diversi corsi Ho fatto un corso, una masterclass con Bernard Hiller Poi ho fatto uno stage con Giovanni Ironesi Studio il liceo economico a Terracina Poi pratico la kickboxing e la vila E come hobby mi piace andare molto al cinema E mi piace andare a cavallo Sono alto 1,77 m E mi piace付ciazione a Roma Grazie a tutti.